Durante il mio viaggio in Siria ad Aleppo, subito dopo la liberazione della città dall'Isis, in quei giorni era caduta Raqqa e fu un viaggio anche pericoloso, mi capitò di imbattermi più volte nelle bandiere gialle di Hezbollah, che combattevano a fianco dei russi e di Assad. Partivamo dal Libano e dobbiamo ricordare che noi di Hezbollah abbiamo spesso un ritratto non totalmente confacente alla realtà, perché Hezbollah è un partito politico, ha circa il 10% dei consensi ed essendo minoranza è un partito che tutela le altre minoranze, compresa la comunità cristiana in Libano. Beh, insomma, io credo che la comprensione maggiore di quello che avviene in Medio Oriente ci aiuterebbe anche in qualche misura ad evitare, per esempio, gli ultimi attentati terroristici che ci sono stati, perché certamente serve l'uso della forza, quando appunto contro il terrorismo questo è evidente, ma è chiaro che in quello scacchiere ci sono ragazzi che hanno visto solo dieci anni di guerra e di fondamentalismo e per cambiare, per cambiargli la testa in qualche modo, per fargli capire i valori della democrazia certamente non basta l'uso delle armi, ma serve un programma che io credo in questo momento sia ancora solo agli inizi. Grazie a tutti.